Restano gravi le condizioni del giovane di Sassano coinvolto in un incidente stradale in Basilicata a Melfi nei pressi dello stabilimento Stellantis. Il giovane era in auto insieme al padre quando si è scontrato per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Basilicata con un'altra vettura sulla quale viaggiavano quattro persone di Lecce. Nello scontro ad avere la peggio è stato proprio il giovane di Sassano che è stato trasferito in elisi soccorso all'ospedale San Carlo di Potenza dove è ricoverato in prognosi riservata sul posto. Oltre ai carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente anche i vigili fuoco di Melfi e un elisi soccorso che ha permesso dopo l'intervento del personale del 118 di Potenza il trasferimento repentino del giovane sassanese all'ospedale Lucano a prensione in tutto il Vallo di Diano per le sue condizioni di salute.